Nell'aprile ormai quasi trascorso dovevo tenere nella splendida cornice del Museo Archeologico di Arezzo la conferenza sulla Bologna Etrusca, terzo appuntamento di un ciclo inaugurato nel 2018 con la città di Caino a Marzabotto e continuato poi nel 2019 con il porto di Spina nel delta del Po. Dunque era adesso la volta della metropoli etrusca della pianura padana, la città che i romani fondarono come colonia nel 189 a.C. con il nome di Bononia e che però loro stessi sapevano che prima si chiamava Felsina, come ci ricorda Plinio il Vecchio che senza esitazione la definisce Princeps Etrurie. Felsina era la resa latina di un nome etrusco, affatto di simile a quello di tante città dell'Etruria propria, ma cosa ben più importante, Plinio appunto la definisce città principe dell'Etruria, Tucur. Dietro questa definizione è forse probabile vedere una tradizione che riconosceva Felsina quale metropoli dell'intera civiltà etrusca, assurgendola ad un ruolo che altri racconti mitici riconoscevano a Cortona e a Pirgi, il porto di Cerveteri. Non è certo facile ricostruire le vicende storiche di una città che ha alle sue spalle più di tre millenni di vita e che ha visto l'avvicendarsi, tra i torrenti Apos e Ravone, di tanti popoli e culture fino a noi. L'ha immortalò Giosuè Carducci nelle Odi Barbare, professore all'Università di Bologna e pienamente immerso in quella esaltante stagione di ricerche archeologiche che furono i decenni dopo l'unità d'Italia. L'impatto delle popolazioni celtiche, che ne fecero uno dei loro centri politici primari, e poi quello dei Romani, che sconfitti definitivamente i Celti, i Boini e il 191 a.C. fondarono la colonia di diritto latino, non riuscirono a spazzare però le vestigia della più antica città etrusca, che ancora oggi emergono dal terreno, regalandoci anno dopo anno altri pezzi di un puzzle complesso e che non riusciremo però mai a completare del tutto. L'insediamento, formatosi da più villaggi secondo un fenomeno sinecistico noto per altre città etrusche della Toscana e del Lazio, già durante l'VIII secolo si concentrò nell'area planiziale, tra i torrenti Aposa e Ravone, che dunque lo cingevano a est e a ovest. A sud, le prime propaggini degli Appennini costituirono una naturale cintura difensiva e ospitarono l'acropoli della città, la cui funzione sacra è riconoscibile già dalla fase più antica. La città si estendeva così per ben oltre 200 ettari, superando i centri più importanti dell'Etruria meridionale, quali Veio, Cerveteri e Tarquinia. La storia di Felsina è costellata di svolte e cambiamenti, ravvisabili soprattutto dalle migliaia di sepolture, tutte scavate nella dura argilla della pianura. Questo non significa però che mancassero forme di monumentalizzazione, anche di grande impatto, come dimostrano le vere e proprie camere funerarie realizzate in legno con corredi sontuosi e i monumenti in pietra che sovrastavano le tombe. In particolare, le stelle in arenaria, già dalla fine del periodo villanoviano, avviarono una tradizione unica nel suo genere, che, sebbene con un'importante rottura durante il VI secolo, continuerà a caratterizzare il paesaggio funerario felsineo ancora fino all'arrivo dei celti nei primi decenni del IV secolo a.C. Nell'auspicio di potervi quanto prima illustrare con dettaglio lo splendore di questa metropoli etrusca della pianura padana, mi invito a visitare il sito web del Museo Civico-Archeologico di Bologna, un prezioso scrigno che racchiude le meraviglie della Bologna etrusca. Ascoltate dal professor Giuseppe Sassatelli, presidente dell'Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici e più importante studioso dell'Etruria padana, la nascita di questa importante istituzione museale, che ancora oggi conserva, fra le tante meraviglie, lo specchio etrusco di Arezzo, noto con il nome di patera cospiana.